Ciao a tutti, in questo video abbiamo il piacere di introdurvi il programma di abbonamento al canale e spiegarvi come alla fine in realtà non cambia nulla. Prima di iniziare a parlare del programma però vorremmo innanzitutto ringraziare ognuno di voi perché quando abbiamo ripreso a pubblicare su YouTube in modo costante diciamo da inizio 2020 forse adesso ecco è giusto un anno, non ci saremmo mai aspettati di raggiungere in così poco tempo il famoso traguardo dei mille iscritti al canale. Adesso l'abbiamo superato grazie a voi, siamo già un altro po' proiettati ai 2000 ma tutto veramente solo grazie a voi quindi veramente vi vogliamo ringraziare per questo. Adesso grazie a YouTube abbiamo la possibilità di far partire il programma abbonati che vi permetterà di sostenere il nostro lavoro e supportare la creazione di contenuti sempre migliori sia come YouTuber che come streamer di Twitch. Per chi già ci ha conosciuto in questi anni sa che la passione per gli scacchi e la loro divulgazione sono da sempre i pilastri su cui si è fondata la nostra filosofia. Chiaramente aggiungendoci un pizzico di sana follia che contraddistingue tutti gli appassionati. Su questo vogliamo infatti essere chiari ed è importante, ci teniamo a dirlo, per quanto riguarda i contenuti e i video non cambia assolutamente nulla. Il nostro lavoro, il nostro tempo, le nostre energie saranno sempre focalizzate alla creazione di contenuti sempre migliori, gratuiti, in italiano, qui su YouTube, quindi sia divertenti che educativi. Ci conoscete, ci piace giocare, fare un po' di tutto, quindi se vi piace, seguiteci. Per questo motivo, una buonata di follemente scacchisti potrà offrire qualsiasi somma preimpostata dai livelli che vanno da pedone a re per ottenere i badge e le emoticon personalizzate dei folli, ma soprattutto per un gesto di supporto verso il nostro lavoro. Non sono previsti benefici aggiuntivi, escluso la nostra profonda e sincera calitudine per coloro che ci sostengono e che ci permettono di continuare a fare ciò che amiamo. Siamo onorati di avere una comunità di folli appassionati che valorizzano il lavoro che facciamo. E per concludere ci teniamo a ringraziarvi tutti. Innanzitutto per averci permesso di raggiungere il primo piccolo grande traguardo dei miei iscritti e anche per il tempo speso per ascoltare quest'altro pezzo della nostra storia.